Ciao a tutti e benvenuti! Ciao a tutti e benvenuti! Oggi vi propongo una ricetta davvero meravigliosa! Io l'ho assaggiata per la prima volta e l'ho trovata fantastica! Il profumo dei semi, i mischi, io adoro specialmente quelli di sesamo per questa focaccia facilissima, veloce e davvero molto buona! Quindi vi lascio a ingredienti e ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!